Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano 7 chilometri di coda tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna, code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Roma. Spostiamoci sulla 12 dove a causa di lavori si segnalano code tra il raccordo Luccaviareggio e Versilia in direzione Genova e tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. In Fipili sempre a causa di lavori 3 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze e 2 chilometri di coda invece in direzione Livorno. Viabilità di Firenze a causa di materiale incarreggiata momentaneamente chiusa via dell'albero con disagio alla circolazione. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!